Noi siamo qui oggi per chiedere comunque all'ente nazionale di regolarizzare delle famiglie che in questo momento occupano una palazzina in via Nicolò Tudisco. Queste persone comunque non sono dei normali abusivi perché precedentemente erano già affittuari dell'immobile. Le persone che sono oggi presenti hanno già pagato un'indennità di occupazione richiesta dall'ente e quindi non chiedono di abitare in una palazzina abusivamente e quindi senza nessun diritto, ma comunque pur pagando, pagando e cercando di essere regolarizzati. Capiamo pure che all'interno di questa palazzina c'è gente in difficoltà economica, tutte regolarmente iscritte al registro dell'emergenza abitativa. E comunque ci sono dei minori a carico e anche minori disabili. E comunque c'è un'altra cosa che vogliamo dire è che comunque all'interno della palazzina ci sono anche dei migranti con regolare permesso di soggiorno e questo comunque fa evidenziare come un'amministrazione comunale che si prende subito carico di coloro che sbarcano l'indomani, cioè quindi dando tipo un supporto a queste persone, però quando queste persone poi vengono comunque regolamentate, quindi si integrano comunque alla comunità, vengono dimenticate come tutti gli italiani. Grazie a tutti.